Chris Van Vliet ha intervistato Drew McIntyre e ora vi riassumo le cose più interessanti che ha detto al suo microfono il corazziere scozzese. Innanzitutto questo è il momento più bello della sua carriera perché è quello in cui si sta divertendo maggiormente. Il nuovo management e il processo creativo diretto da Triple H hanno reso il backstage più positivo dando a tanti l'opportunità di mostrare cosa sanno davvero fare e permettendo loro di esibire delle capacità che prima restavano nascoste nell'ombra. Drew tra l'altro ha ottenuto una parte nel film Killers Game e lo ha fatto grazie a Batista che lo ha segnalato ai produttori indicandolo come perfetto per serietà e per fisico per un ruolo secondario ad alta fisicità. Sul set Batista ha tranquillizzato un nervoso Drew dicendogli che anche lui lo era malgrado le tante ormai precedenti esperienze come attore McIntyre invece era alla prima volta. È una cosa normale gli ha detto l'animale. Poi quando sono iniziate le riprese Drew si è sciolto e tutto è andato per il verso giusto. Insomma ad agitarlo sostanzialmente era l'attesa di andare in scena e lo capisco perché anch'io sono fatto così. Drew ha poi elogiato Joe Henry che in una recente intervista ha dichiarato che in Scozia McIntyre è l'atleta al quale si ispirano i giovani wrestler. Drew ha fatto notare che il successo di Joe non è casuale e sta arrivando dopo una lunga e intelligente gavetta nella quale ha sviluppato il personaggio che adesso in tanti apprezzano. Nel suo periodo nella Dream and Band beh su quello Drew è stato un po' caustico ha detto che era giovane che c'erano tante cose soprattutto il parlato che erano preparate nei minimi dettagli e che tutto questo impediva a molti lui compreso di esibirsi in maniera serena e di palesare il loro vero io. Quell'alleanza però lo aiutò a sdrammatizzare le cose e a maturare l'esperienza e la sicurezza in se stesso necessarie per affrontare la vita da wrestler fuori dalla WWE. E quando si ruppe il collo nel 2016 dopo il licenziamento dalla WWE stessa fu costretto a stare fermo per un paio di mesi. L'infortunio fortunatamente non era di massima gravità. E quando questo accade utilizzò quel periodo per ragionare sul suo presente e sulle sue ambizioni future, ispirandosi a Brock Lesnar per redigere un piano che lo portasse a migliorare nelle aree in cui era ancora carente, per diventare una top star della WWE proprio come il sindaco di Suplex City. L'equazione di Drew era semplice, Lesnar con Paul Heyman oggi è il personaggio, è l'atleta, è il wrestler più importante, voglio essere come lui. A livello fisico di presenza posso arrivarci, su tutto il resto devo rimboccarmi le maniche. Andando un po' più indietro nella sua carriera, nel periodo in cui era soprannominato The Chosen One, cioè il prescelto, il pupillo di Vince McMahon, beh, tale nome aveva scatenato molte gelosie nello spogliatoio, perché in tanti non gradivano che un'occasione di salita al top fosse stata offerta così di punto in bianco ad un giovane, e non ad un veterano che già aveva dimostrato il suo valore e la sua fedeltà alla federazione. La sconfitta a Clash The Castle 2022 contro Roman Reigns è stata davvero dura da digerire, e il finale in cui lui canta insieme a Tyson Fury è probabilmente il peggior momento della sua carriera. Drew pensava che fossero già off-air, insomma che la diretta fosse terminata, invece poi ha scoperto con grande rammarico che erano andati in onda. Sul finire della chiacchierata, il corazziere scozzese ha ricordato con un pizzico di orgoglio, ma anche lanciando una frecciatina ironica a Baron Corbyn, di essere stato il primo ad effettuare un kick-out dalla End of Days, la finisher di Corbyn che lui protegge con molta serietà. Se non ricordo male tutto questo è accaduto a Vrestelmenia 38. Infine, ecco le tre cose per cui oggi come oggi è grato alla vita. Uno, la famiglia, gatti compresi. Due, la salute, soprattutto dopo 24 anni di vita da Vrestler. E tre, anche se sembra un po' ridondante, sua moglie, perché è sempre stata presente nei momenti critici e in quelli felici, appunto, della sua esistenza. E questo, compresso, è un po' il succo, è la spremuta delle parole, delle dichiarazioni, delle esternazioni di Drew McIntyre. Ora, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, e poi dita a roventi, attendo le vostre opinioni su tutto quanto, beh, come al solito, qui sotto, nello spazio dei commenti.